Questa cosa si chiama quarantena. Un cartone animato per spiegare ai 242 bambini della scuola primaria di Bibbiena costretti a stare a casa dopo che una maestra è risultata positiva al covid-19 che la quarantena non è una prigionia e non è una cosa brutta ma una missione speciale per tutelare la salute dei nonni e delle altre persone fragili. La quarantena non è una prigione. E chi è in quarantena come voi non è ammalato. Dovete però rimanere lì, nel vostro nido a giocare, a leggere per uno scopo che è grande come una montagna, anzi no, come il mondo intero. Aiutare tutto il casentino. A realizzarlo è stata l'amministrazione comunale di Bibbiena. Il video cerca di spiegare ai bimbi cos'è la quarantena, perché devono passare alcuni giorni a casa e perché è importante aiutarsi e rispettare le regole ma soprattutto spiega a questi bambini che loro sono i veri eroi perché è grazie alla loro forza e buona volontà che il coronavirus sarà sconfitto. Nel video poi ci sono anche informazioni su come comportarsi e come lavarsi le mani. Allora, voi siete diventati ufficialmente gli aiutanti del sindaco Filippo, di tutti i dottori e di tutti gli scienziati che stanno lavorando per combattere il mostriciattolo malefico. Noi siamo i vostri fans e voi i nostri eroi. Grazie bambini!